il celebre episodio del giovane ricco cosa dice dice di un ragazzo di un uomo che ha un desiderio grande sulla sua vita arriva addirittura mettersi in ginocchio davanti a gesù gesù gli dice vendi tutto quello che hai dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo poi vieni e seguimi e il giovane ricco se ne va triste la cosa più importante che dice gesù a questo ragazzo non è fatti un tesoro nel cielo vendi i tuoi beni e ti fai un tesoro in cielo ma vieni e seguimi perché ricevi già nel presente cento volte tanto il guadagno quel ragazzo rinuncia a guadagnare cento volte tanto quello che occorre pazientemente e insistentemente offrire a tutti è la consapevolezza che uno segue qualcosa segue qualcuno di molto concreto come era concreto gesù con quegli occhi e quella faccia perché ci guadagna cento volte tanto grazie a tutti 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 grazie a tutti